ci porta al nord Europa, adesso ritorniamo qui in Salento a casa nostra con Francesca, Paolo e gli amici della Coppola e quindi nel frattempo che i nostri maestri si accordano un pochino vogliamo ancora fare un grande applauso alla Prologo di Nociglia per aver organizzato questa bellissima manifestazione in onore della Madonna dell'Idri che ritorna dopo due anni di lockdown, vero? Dico la verità, giusto? Ritorna in pista a scaldare i cuori di tutti voi nocigliesi ma anche me che sono metà san cassanese ma anche metà nocigliese avendo tutta la famiglia qui e adesso a proposito di famiglia i nostri Francesca, Paolo e tutti quelli della Coppola, iniziano a cantare con la Zamara. A presto! di vincitare la tua mamma. Menzo lo gana adesso, via l'ordine in appeso, menzo lo gana adesso, via l'ordine in appeso, menzo lo gana adesso, via l'ordine in appeso, menzo lo gana adesso delle mese. Perolelelelelelelelele! Avviti bello mio ca poco notte! No, no pananerno, no pananerno, no pananerno, no pananerno, no pananerno, no pananerno, E li 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.